Passato al setaccio della polizia di Niscemi, guidata dal commissario Gabriele Presti, tutto il territorio, controlli che sono stati mirati ad intercettare i leciti amministrativi ed il contrasto alla criminalità diffusa. Azione messa in atto con la collaborazione della polizia di Catania di Palermo. Due soggetti sono stati segnalati perché colti alla guida senza patente e uno con patente di guida revocata. 76 persone sono state identificate, 44 veicoli controllati, 10 di posti di blocco effettuati, controllati 3 bar e levate 21 contravvenzioni, sequestrati 8 veicoli, 6 autovetture per mancanza di copertura assicurativa, sottoposti a fermo amministrativo 8 veicoli, ritirata 8 carte di circolazione, denunciati 2 soggetti per guida senza patente, effettuato una perquisizione su strada, controllati 20 soggetti con obblighi giudiziari e di polizia.